È stata un'esperienza bellissima perché era attesa e Daniele partiva anche tra i favoriti, però c'era sempre questa grande incognita, quando parti favorito è la volta che non vinci. Invece questa volta queste agenzie di rating sportivo l'hanno imbroccata, per cui siamo tutti contenti. È stata una bella vittoria, come quando Daniele vince sempre bene, alla grande, senza ombra di dubbio. Questo è un momento per la città, per Daniele in particolare, ma per tutti noi, per i genitori, la famiglia. Come si fa a non essere felici? Adesso qua bisognerà verificarlo se è la prima medaglia d'oro che viene vinta a Pordenone. Mi sembra proprio di sì. Beh, per me, voi capite, c'è un doppio privilegio. Complimenti a Daniele, prima di tutto buon compleanno e poi la medaglia è una cosa veramente meravigliosa per lui, prima di tutto, ma anche per tutto il quartiere e per l'Italia. Catelli d'Italia! Gli abbiamo dedicato la pagina, la prima pagina del giornale, con una grande foto. E poi, pur essendo le ultime ore di chiusura, abbiamo voluto dedicargli una pagina intera. L'Italia se destra! Insomma, Molmenti è nostro. Il titolo che abbiamo dato, semplice, semplice ma significativo, Daniele d'oro. E certamente che siamo qua per Daniele. Un oro a Torre. De l'elmo di Scipio! Noi di Torre siamo tutti qua per lui. Torre con due R. Torre! Tu sei molto vicino a Daniele, vero? Dici perché. È 15 anni che facciamo cano insieme. E quindi? L'ho visto da bambino e adesso la gioia è infinita. Io sono il compagno di classe di Ubaldo Molmenti e ho visto nascere il buon Daniele. E quindi è grande, bravo, complimenti a Daniele. Io credo che sia veramente un momento storico per la nostra città. Anche se io non sono di Torre, sono della zona del Don Bosco, però ritengo sia opportuno veramente venire a festeggiare Daniele Molmenti che veramente ha dato lustro, oltre che alla regione, al mondo intero con la sua medaglia d'oro. Il Dio la creo! Grazie, grazie ragazzi!